Buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti voi, bella gente, buon sabato, sono entrata a farvi un saluto veramente di vero cuore, di augurarvi un weekend bellissimo, pieno di serenità, di cose positive, accanto alle persone positive, le persone per bene, alle persone che vi vogliono bene e vogliate bene. Circondatevi sempre di persone positive, io questo lo dirò, non finirò mai mai di dirlo, perché se ci circondiamo di persone negative non combineremo niente di buono. Qui da noi tempo brutto anche oggi, la mattina è bellissimo fino a una cert'ora verso le 14, poi parti fine mondo, ma va bene così, vuol dire che questo è, prendiamo quello che viene, godetevi sto fine settimana, ovunque voi siate, con chiunque voi volete, mio italiano è questo, tanto voi mi capite e soprattutto il tempo, se pioverà si sta a casa sui divano, se ci sarà sole si andrà a fare una bella camminata. Buon fine settimana a tutti voi, bella gente, abbiate cura di voi.